Ciao a tutti ragazzi e benvenuti siamo qui oggi con un nuovissimo gameplay retro ovvero con Psychonauts Allora questo Psychonauts ricordiamo che è un gioco in questo caso della prima Xbox Noi stiamo provando almeno quello che è disponibile sul Game Pass In vista del seguito che uscirà il mese prossimo Sì ad agosto uscirà Psychonauts 2 Però questo è molto molto vecchio che è della primissima Xbox come detto Non l'abbiamo mai giocato né niente Non sappiamo proprio niente Dovrebbe essere un platform normale Ah ma è in inglese? Sì anche in inglese pensate un po' è così vecchio Addirittura in quel periodo che non li traduciano nemmeno i giochi Allora come vediamo siamo molto affascinanti Siamo una specie di formica Vabbè spiega un po' in poche parole dai Questo è tipo Hitler Ci sta tipo bastonando Con la voce però Comunque noi ci stiamo risvegliando Com'è Dio un risveglio di quelli proprio brutti eh Guardati intorno Che cos'è? Tipo pensavo erano dei soldi Invece no è un occhio con delle carte Ah partiamo malissimo eh Ricordiamo che ovviamente le console Xbox danno sempre quella spinta in più di grafica eh Sì sì Che rende un leggermente definito Allora noi siamo una super formica credo Eh penso che siamo proprio in un villaggio di formiche Io non so questo che essere in realtà Sembra una formica Sembra una formica adesso Non ci siamo informati Magari poi cercheremo meglio Cioè giusto è una cosa Vedi c'è una di quelle carte Qua eh Quale le azioni? Hai preso una carta S1 Siamo pronti dai Forse c'è una scena filmata Picchialo picchialo Com'è no ti spacco la faccia Picchialo picchialo Ti parlo di un piangeria e serenato Oh arriva stardo Non hai domenato questo Ah non hai domenato questo Non è il mio compagno Sembrava strano Aiuto Fuggi ah Premi apri saltare vai Oddio sono delle esposizioni troppo brutte Fuggi fai presto Un tesoro apri Apri la cassa Ah no non ce lo può fare Vabbè andiamo avanti Ah non l'avevo vista Non è la bella scritta Non avevo visto lo spessore della fugga Io pensavo che era un polo della corrente in realtà E ci siamo Un po' più veloci possibilmente E non si è assaltato No mi devi aspettare di nuovo Sì tutto Non ci cade qualcosa in tutto in te Oh c'è l'ho dei coi Come si permette Devi salire sopra questa rete Vedi c'è quella rete Ah ok Non avrei mai detto che è una rete Beh io sono andata per intuito Proprio perché vedevo queste cose diverse Ho detto magari ci devi salire sopra Però io a prima vista non è che le avevo capite Cioè non avevo capito che è una rete Sì perché mi sembra l'andoletto Supera questo vai Vattene via Quando se un suicidio è Annibale devi morire Lui c'è qualcuno Che schifo Dai prosegui Il campo minato aiuto no No Aiuto il campo minato no Ho superato anche questo Ah non devo uscire di qua Apri Apri tu bastardo Non devi salire sopra Ma tipo salano a fuoco Non penso funziona Oh no vedrò un'altra vista di uno Apri Oh eccolo aperto Mi butto Senza fare cadute Vabbè Penso che siamo vivi Questo l'addestramento è un uomo mortale Eh infatti Oddio di dove siamo finiti Era quello il punto di alteraggio Avevo sbagliato Oh si ci si hanno fatto vivere di noi Eh forse si Ho dei picchioli No non all'oro A questo Pensavo E' tipo bullo Che picchioli non vai E qui si è arrivato Diceva che vuoi Mori 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 Vai fammi vedere la portale Ma che schifo E' un po' di qualcosa Ah ci ha riportato all'inizio No sei scemo Stiamo schianotti Proietti Capirità No ci hanno preso Ah guardate però I cervelli sono le vite Eh me ne so accorto Oddio come come lo uccidiamo a questo No se dobbiamo solo raggiungerlo Ah Allora lo devi uccidere questo Oh questo è il mio amico Ho sbagliato la prima volta Aia no Sto perdendo l'altro di cervello Sono diventato scemo Aspetta no C'era quella cosa gialla Pure da colpire Oh ci siamo Vai No no Devi andarci su Secondo me Vai Ma magari si sta distruggendo Puttati vai Sono un po' Sei un po' di dubà Eh No Ah Che palle Ah No ci siamo Non è finita C'è una cosa triste Aspetta La monnezza triste No questa è più una cassetta postale Ok una rete No un po' paura Non era una rete Era una rete Ma non una rete Che serviva da appenderci Quindi dove dobbiamo andare Di qua non è una rete No forse devi sfondare sto muro Ma forse devi sfondare questo muro Proviamo Non so se ho questa abilità così Non penti Ah si No E Gedanken La mia C'è una rete Ci sono È Quindi No No aiuto dai ci promuovi abbiamo fatto questo riparte devo dire che non mi ha colpito come gioco e diciamo mi fa anche un po' dubitare del seguito però vabbè quello è un gioco nuovo quindi chissà quello sicuramente sarà diverso magari farà pure un riassunto del primo ha una storia da seguire ne parleremo sicuramente meglio nel video di invecchiato bene che ricordiamo includerà sia Psychonauts che anche Conker che l'abbiamo giocata la settimana scorsa poi fateci sapere cosa ne pensate di Psychonauts ricordiamo che Psychonauts 2 uscirà ad agosto disponibile fin dal day 1 sul Game Pass se noi lo giocheremo sicuramente non crediamo di fare una serie ma sicuramente lo giocheremo grazie a tutti come sempre invitiamo a lasciare un like condividere e iscrivervi alla prossima ciao grazie a tutti Grazie a tutti.